Come costruire una relazione sana tra cani e bambini? Con l'aiuto del nostro medico veterinario, ecco quattro consigli per una convivenza perfetta. Concedete uno spazio al cane a cui il bambino non abbia accesso, per rispettare i suoi momenti di tranquillità e isolamento, come per esempio quando mangia o quando dorme. Insegnate al bambino a rispettarlo, mai sollevarlo se si tratta di un cane piccolo o cavalcarlo se si tratta di un cane grande. Bandite le urla o l'eccesso di contatto fisico, come gli abbracci e i baci, che sono cosa sgradita ai nostri cani. Coinvolgete il bambino nel preparare il pasto al cane o nello spazzolarlo. Non lasciate mai da soli i bambini animali senza supervisione. Le interazioni sbagliate e reiterate nel tempo potrebbero generare stress e sul lungo periodo minare la relazione tra i due.